salve a tutti sono un micweb e sono di nuovo qui per un piccolo tutorial di wordpress oggi parliamo dopo aver creato le pagine e gli articoli della nostra pagina cosa possiamo vedere ecco qui ricordo la pagina gli articoli oggi vi mostro i plugins plugins sono dei piccoli programmi che aiutano a sviluppare il nostro sito delle piccole funzioni qui ad esempio sono plugins più consigliati qui sotto possiamo anche andare a selezionare plugin per facebook gallery ci prendiamo ad esempio una gallery andiamo qui andiamo a vedere come vedete ce ne sono molte dovete selezionare provare quella che più vi piace alcune sono anche alcuni plugin sono anche a pagamento quindi leggete sempre bene le descrizioni qui ci sono una marea di plugins la nostra scelta mi prendo questo clicco sopra leggo i dati dell'installazione le scarmate ecco qui beh sì mi piace ok proviamo a configurare questa questo questo plugin come gallery semplicemente qui installa adesso aspettiamo un attimo che scarichi il pacchetto ecco qui il pacchetto già scaricato devo attivare il plugin a questo punto sotto menu punto sotto plugin vado a vedere che è attivato e adesso vado a cercare dove sono le impostazioni del plugin ogni volta che è installata un plugin di solito si aggiunge un nuovo punto un menu a qui ecco qui in alto gallery lightbox qui posso impostare alcune opzioni per la per la gallery riproduzione automatica del slideshow mettiamo sì lasciamolo così in trevallo di presentazione metto due secondi riproduzione misura le parti inferiori posso cambiare il colore del sottosfondo della mia gallery salvo le modifiche adesso vediamo qui c'è la documentazione importante quando installate un plugin leggete la documentazione adesso vado un po così per esperienza vado un po a caso di solito quando utilizzate un plugin ad esempio come la gallery lo potete aggiungere su una nuova pagina o su un nuovo articolo ad esempio qui scrivo gallery crea una nuova pagina ecco qui gallery lightbox light dire che è attivata aggiungo delle foto o meglio crea una crea una galleria aggiungo un paio di foto prendo questa anche questa sempre una solita foto giusto per avere una piccola galleria inserisco la galleria la galleria è stata inserita sulla pagina con l'opzione gallery light il nostro plugin che avevamo attivato vado a pubblicarmi la la mia pagina ecco qui ci clicco sopra e ho attivato la mia la mia galleria come vedete è una galleria insomma le foto sono sempre le stesse comunque come avete visto semplicemente utilizzando questo plugin che ho scelto ho ottenuto una galleria se ad esempio qui tolgo l'opzione dico che non lo voglio usare andiamo a vedere la nostra pagina sono delle foto male come vedete non è più una galleria non sono semplicemente delle foto che si possono cliccare clicco sopra e non è un gallery tradizionale ed è noioso quindi in poche parole i plugins sono funzioni aggiuntive per abbellire il nostro sito adesso teniamo qui sulla bacheca andiamo ci aggiorniamo andiamo sulle pagine tutte le pagine tra la pagina gari per far vedere la differenza modifico la pagina attivo scusate attivo di nuovo la galleria lightbox il nostro plugin che avevamo installato aggiorno di nuovo la mia pagina andiamo di nuovo su anteprima modifica ci clicco sopra e questa volta parte di nuovo la galleria slideshow insomma è più lo trovo molto più moderno insomma se avete molte foto di disposizione questo sarebbe un plugin semplice da installare semplice da utilizzare è un esempio ce ne sono molti altri plugin non sto qui a spiegare tutti i plugins volevo solo farvi vedere come si può installare un plugin cosa dovete controllare facciamo ne installiamo un altro per farvi vedere ad esempio un plugin molto importante secondo me che dovete assolutamente installare contact se volete o se vendete qualcosa volete che i vostri clienti o futuri clienti o insomma in qualche modo qualcuno si mette in contatto con voi di solito si usa un formulario dove si scrive l'indirizzo email il nome cognome e il messaggio qui come vedete ce ne sono tanti in forma di plugin installo questo vcp contact form lo installo un attimo che scarica il pacchetto in sottofondo ci impiega qualche minuto a seconda del pacchetto viene scaricato viene decompresso quindi non spaventato se eccolo qui attiviamo il nostro plugin plugin è attivato e adesso come vedete compare un nuovo menu e qui posso settare le impostazioni del 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 plugin in in questo questo caso questo è un plugin come vedete un po più complesso nel senso che ogni plugin a delle configurazioni che devono essere selezionate questo è un contatto un formulario per mettersi in contatto con noi si possono cambiare i colori si possono definire che messaggi se qualcuno sbaglia mettere l'indirizzo email qui le notificazioni nel senso quando qualcuno ci mette o ci dà un messaggio otteniamo la un email anche colui che ha scritto messaggio riceverà un email di conferma grazie che hanno dato messaggio qui sono altre impostazioni per il captcha a questo punto andiamo ad inserire il nostro plugin io lo aggiungo come sempre io lo faccio in forma di nuova pagina può essere un nuovo pagina un nuovo articolo per un formulario di contatto aggiungo nuova pagina eccolo qui in questo caso il nostro plugin basta schiacciare questo pulsaltino con il simbolo della email andiamo a pubblicare la pagina eccolo qui questo è il nostro plugin in azione contatto nome cognome testo il captcha è qui l'opzione di mandarci mandarci appunto un messaggio ecco direi che è tutto per questa volta vi ho spiegato l'installazione di due plugins molto semplici sono solo esempi ora avete capito il principio aggiungere plugin saliette ce ne sono parecchi a disposizione potete anche selezionare i più popolari quelli che la maggior parte dei blog hanno installato ce ne sono tantissimi provate come vi ho spiegato ricordatevi una volta che avete installato il plugin dovete andare a configurarlo e poi renderlo pubblico nella maggior parte dei casi creando una pagina oppure un articolo e attivare la funzione leggete leggete sempre la documentazione la prossima volta cercherò di fare un riassunto o una raccolta dei plugins che io uso di solito una classifica dei top 5 o top 10 plugins più importanti che secondo mio avviso ognuno di voi dovrebbe installare ok per oggi è tutto ci vediamo alla prossima ok